Assessore, è iniziato il conto alla rovescia, lo possiamo dire, il 5 marzo riapriranno i comparti 3 e 4 della riserva d'Annunziana. Una bella notizia dopo quanto accaduto il primo agosto scorso. Ormai sono trascorsi 7 e 8 mesi, quindi abbiamo lavorato per rimettere in sicurezza i comparti 3 e 4 e sabato 5 marzo faremo l'inaugurazione, riapriremo la Pineta, il comparto 3 e 4. Sarà una bella giornata, avete chiamato associazioni, ci saranno i ragazzi delle scuole? Ci saranno dei ragazzi delle scuole che stanno vicino alla Pineta, del comprensivo 6 e del comprensivo 2. Più ci saranno varie associazioni perché ci teniamo in modo particolare, a rimettere a disposizione la Pineta, il laghetto, i percorsi per correre, i giochi, tutto ciò che è stato messo in sicurezza ed è tutto in ordine e ben sistemato. Stiamo lavorando anche con l'aiuto dell'Università dell'Aquila e con l'aiuto degli esperti che il Sindaco ha indicato come Commissione, per mettere in sicurezza e pulire anche il comparto 5. Cominceremo la pulizia nel giro di 15 giorni, abbiamo già approvato la delibera, quindi cominceremo a mettere in ordine e in pulizia il comparto 5 e poi ci vorrà del tempo.